Il prossimo 31 marzo la Spiaggia degli Olivi, guidata dall'imprenditore Dario Levi, riaprirà ufficialmente i battenti per la stagione 2017 e la stessa società gestirà anche il servizio di ristorazione e catering della vicina Fraglia della Vela. La spiaggia non è un corpo estraneo e già adesso c'è un rapporto di proficua collaborazione, ha commentato il presidente di Fraglia Vela Riva Mirandola. Con questa opzione contiamo di poter offrire un prodotto di livello ancora più alto ai nostri ospiti. Nell'intento dei gestori della Spiaggia degli Olivi, il 2017 dovrà segnare anche un maggior sfruttamento della terrazza e dello spazio dedicato alla gelateria. Ripartiamo con una squadra rinnovata e rinforzata, fa sapere il gestore Dario Levi, composta da ragazzi giovani ed entusiasti.